Musica Ancora senza esito le ricerche del 19enne di Acqualagna disperso da sabato, lanciato un appello anche durante la trasmissione televisiva a chi l'ha visto. Il Comune di Fano ha acquistato dalle ditte della telefonia mobile il piano dettagliato delle nuove antenne. L'ente pubblico tra due fuochi rispondere a esigenze di copertura e tutelare la salute dei cittadini. Il Consiglio Comunale di Fano ha approvato non senza polemiche il regolamento per l'istituzione dei consigli di quartiere. Entro dicembre il bando che iscrive chi vuole farne parte, se Filippi e Santorelli commentano, è un passo epocale per la città. A Pesaro Forza Italia ufficializza l'ingresso nel partito di Antonio Bartolomei, ex capogruppo della lista giovani a sostegno di Marco Lanzi nelle ultime elezioni amministrative. 20 anni di presenza a Senigallia, BCC Fano dona un evento teatrale alla comunità. Lo storyteller Luca Pagliari darà voce a numerosi protagonisti. Appuntamento al 23 ottobre al Teatro La Fenice. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In apertura la cronaca sono ore di angoscia per Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso nel nulla sabato scorso. Il giovane, dopo aver trascorso la serata con gli amici, si era recato alla diga del Furlo, dove le forze dell'ordine domenica sera hanno ritrovato l'autovettura con all'interno documenti, vestiti e il cellulare. Dunque proseguono le ricerche, sono circa 20 le persone impiegate nelle operazioni. Sul posto i vigili del fuoco sono mozzatori, soccorso alpino e speleologico e unità cinofile. Nei giorni scorsi le ricerche si sono concentrate nella diga, nel letto del fiume Candigliano e sulla Falesia, fino alla cima del monte. Si è tacciati anche i sentieri, impiegati nelle ricerche anche droni con visori notturni a raggi infrarossi. La prefettura di Pesaro Urbino, che sin da subito ha attivato il cosiddetto piano provinciale persone scomparse, ha convocato una riunione domani mattina per fare il punto della situazione con tutti gli organi che stanno partecipando alle ricerche. Intanto i genitori e i cittadini continuano a inviare e a condividere appelli social, lanciati anche dalla trasmissione RAI. Chi l'ha visto? Il Dipartimento regionale della protezione civile ha diramato un'allerta gialla per la criticità idrogeologica, valida per domani su tutte le marche. Per la giornata di sabato 19 si prevedono infatti precipitazioni diffuse e persistenti, con maggiori accumuli lungo la fascia costiera e nel settore interno settentrionale, dove localmente i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale intenso. Bellocchi, Don Bosco, Metaulia, tre siti problematici dove i residenti si sono ribellati al posizionamento di nuove antenne. Contro quella che dovrebbe sorgere all'interno del complesso Don Orione, i cittadini stanno attuando una raccolta di firme. Per quella di Bellocchi invece è in atto un abbraccio di ferro tra amministrazione comunale e Inwit per individuare un sito alternativo così come per Metaulia, ma l'impresa è ardua. Abbiamo fatto il punto della situazione con il vice sindaco e assessore all'ambiente Loretta Manocchi. Assessore Manocchi fermano gli incontri dell'amministrazione comunale con gli operatori della telefonia mobile per il piano delle antenne. Si sta elaborando per un nuovo piano delle antenne, ma intanto le aziende hanno presentato un piano di sviluppo. A che punto sono questi colloqui? I colloqui sono praticamente giunti al termine. Abbiamo incontrato tutte le compagnie telefoniche e anche le power company che costruiscono per gli operatori. Abbiamo intercettato il loro desiderata, quindi ci hanno significato puntualmente quale sono le loro richieste e necessità su Fano. Faccio un inciso, il piano di sviluppo viene presentato nell'anno e entro la fine di marzo. Quindi di fatto loro hanno già presentato il loro piano di sviluppo, però quello che è stato l'interlocuzione ci ha consentito di intercettare concretamente i desiderata, ovvero il punto specifico dove la telefonia ha la necessità chiaramente di sviluppare la propria rete e di potenziare la propria rete. Comunque si focalizza in questo momento l'attenzione su Bellocchi e Bellocchi è un problema per quanto riguarda i residenti e per quanto riguarda invece quello che vuole la ditta. Sì, noi con Inuit siamo stati molto chiari, abbiamo davvero chiesto, fornendo un sito alternativo, di fare dietro fronte e chiaramente di sospendere la realizzazione dell'impianto nel punto indicato. Inuit ci ha espresso tutte le criticità legate non tanto al titolo autorizzativo in quanto tale, ma tutto l'iter procedurale che è partito, anche legato ai fondi PNRR, anche legato alle evidenze date al Ministero delle Infrastrutture. È chiaro che siamo in una fase davvero molto avanzata. Noi ci ho tenuto a sottolineare che secondo me non è finita finché non è finita e quindi comunque anche stamattina con l'altro operatore telefonico che andrà su quell'impianto vogliamo fornire un ulteriore sito alternativo che faremo entro oggi per cercare fino alla fine di cercare di spostare l'impianto da quel punto. Ci sono novità per quanto riguarda Don Bosco? Per quanto riguarda Don Bosco abbiamo anche lì individuato altri siti alternativi e siamo in contatto diretto con Iliad che è l'operatore telefonico che dovrà realizzare l'impianto. Anche lì nel giro di veramente di un paio di giorni significeremo anche con uno studio il potenziale di questo sito alternativo, quindi fornendo loro tutte le caratteristiche la possibilità di spostarsi da quel sito che è su un sito privato chiaramente. Queste interlocuzioni davvero ci consentono di avere un filo diretto di cercare di, in qualche modo non dico bruciare le tappe però evitare che venga presentata l'istanza, intercettare desiderata, fornire siti alternativi. Questo è fondamentale. Anche stamane l'operatore team ci ha detto condividiamo assolutamente questo tipo di strategia è veramente auspicabile perché molto spesso i tempi delle compagnie telefoniche legate alle necessità di copertura del servizio ma molto spesso in gran parte legate alle richieste chiaramente dei cittadini non corrispondono ai tempi dell'amministrazione comunale che ha dei tempi molto dilatati e non ci fornisce le risposte nei tempi giusti. Ecco, noi vogliamo invertire la rotta per cercare di trovare la massima sinergia. Non dimentichiamo Metauriglia? Assolutamente no. Su Via Iuzzino, che peraltro è stata presentata un'interrogazione come ho precisato ieri sera, ma veramente ci tengo a sottolinearlo la ricerca su quell'area era già stata recepita sul piano delle antenne approvata in Consiglio Comunale il 20 marzo 2024. L'ulteriore area di ricerca è di Iunwit che si sovrappone a Vodafone quindi che costruisce per la stessa compagnia telefonica non era stato previsto un sito alternativo quindi nel precedente piano non era indicato un sito alternativo all'area di ricerca lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo individuato abbiamo già significato questo agli operatori telefonici la compagnia che cerca, per essere chiare, non è Iliad ma è Iunwit per Vodafone e Team e abbiamo appunto spiegato loro in maniera precisa che abbiamo individuato un sito alternativo che gli significheremo immediatamente onde evitare che venga poi presentata l'istanza e si ragioni su un sito che per noi non si confà. Nonostante alcuni momenti di frizione toni piuttosto infuocati nel Consiglio Comunale di Fano la maggioranza ha approvato l'istituzione dei consigli di quartiere secondo un nuovo regolamento il servizio è di Massimo Foghetti. È stata una lunga maratona consigliare durata ininterrottamente per oltre sette ore quella che si è svolta ieri sera a Fano confluita nell'approvazione del nuovo regolamento dei consigli di quartiere un dibattito quest'ultimo che ha occupato gran parte della seduta. Per la Giunta è stato il raggiungimento di un obiettivo di particolare importanza il principale, dato l'impatto cittadino programmato nei primi cento giorni di attività. Da parte sua l'opposizione ha cercato in ogni modo di ottenere il coinvolgimento reclamando questo diritto sia dal punto di vista etico che normativo ma la maggioranza ha proseguito dritto per la sua strada difendendo fin all'ultimo il disegno che era stato ideato cioè l'istituzione di 10 consigli di quartiere composti di 20 consiglieri ciascuno a partire da 16 anni in su eletti nel numero di 15 dal Consiglio Comunale e 5 estratti a sorte respinte tutte le accuse di antidemocraticità soddisfatto il sindaco Luca Serfilippi soddisfatto anche l'assessore Alberto Santorelli Finalmente i quartieri della nostra città tornano al centro della vita politica quindi abbiamo accolto anche alcuni emendamenti dell'opposizione rispondo naturalmente rispedendo al mittente tutte le critiche anche un po' esagerate che sono state mosse nei confronti di questa delibera una delibera che siamo riusciti a portare a casa appunto nei primi cento giorni e che finalmente darà nuovo impulso a tutti i quartieri della nostra città ci aspettiamo una grande partecipazione quando usciranno gli avvisi inizieremo dalla prossima settimana a girare tutti i quartieri della nostra città perché c'è una grande voglia di partecipazione l'abbiamo detto in campagna elettorale tutti i vari candidati e con un strumento snello come questo regolamento riusciamo nei primi sei mesi a dotarci di 10 quartieri con 200 persone che diventeranno parte attiva della nostra città abbiamo anche accolto appunto l'emendamento di allargare questi consigli di quartiere alle scuole e anche a tutti coloro che hanno ad esempio un circolo anziani piuttosto che un circolo ricreativo e che vogliono dare un contributo fattivo vero per il futuro della nostra città perché avete scelto la nomina dei consiglieri da parte del consiglio comunale e non invece con una elezione diretta da parte dei cittadini? l'elezione diretta avrebbe comportato delle liste liste naturalmente elettorali dove la maggioranza avrebbe portato le proprie liste l'opposizione è la sua quindi avrebbe ulteriormente diviso i quartieri e anche politicizzato questi consigli di quartiere mi auguro che ci siano delle liste unitarie che tenga conto sicuramente anche dei nominativi proposti dalla minoranza perché nei quartieri non ci sono molto spesso problemi né di centro-destra né di centro-sinistra ma ci sono problemi oggettivi e chiunque voglia dare un contributo fattivo io ho chiesto di privilegiare l'ingresso dei giovani una delle novità appunto è l'ingresso anche di persone che hanno 16 anni quindi vorrei tanti giovani ma anche tante donne che vogliono dare un contributo fattivo per i quartieri siamo persone serie che hanno ribadito più volte che su questo provvedimento vogliamo la più ampia partecipazione e che quindi questo non deve ovviamente condizionare alcun partito nel poter pensare di avere dei propri rappresentanti dentro il Consiglio di quartiere è giusto vedere chi si candiderà a questa iniziativa e il Consiglio Comunale si darà dei criteri per reggere le persone ovviamente garantendo anche la rappresentanza a tutti e quindi mi viene un po' da pensare da dire che forse chi mal fa mal pensa perché il dibattito del Consiglio Comunale è stato per lo più incentrato su questa cosa che ne è sugli aspetti anche positivi di questa delibera che apre ai sedicenni apre alle associazioni apre agli istituti comprensivi apre ai centri sociali i centri di regrazione approvando anche appunto un emendamento del Consigliere Mascarin quindi come anche dimostrazione di ampia disponibilità nei confronti di questo provvedimento che vuole rimettere in connessione il Consiglio Comunale la Giunta con la città dando la possibilità ai cittadini di ritornare a un senso civico e ad un dibattito che forse negli ultimi anni abbiamo visto solo sui social è stato un dibattito in questi anni purtroppo sterile come è spesso sui social e che non porta a una sintesi invece noi vorremmo che si ritornasse ai rapporti veri tra le persone che si possono confrontare anche in una stanza e che prendano delle decisioni e facciano delle proposte per il bene comune e per il bene del proprio quartiere andiamo avanti con la politica Pesaro Forza Italia ufficializza l'ingresso nel partito di Antonio Bartolomei consigliere comunale ed ex capogruppo della lista giovani a sostegno di Marco Lanzi nelle scorse elezioni amministrative oggi in conferenza stampa sono state presentate anche le strategie di Forza Italia per la città diciamo che è una scelta di coerenza rispetto al mio pensiero politico quello che è sempre stato perché io sono nato e morirò berlusconiano sono sempre stato vicino ai valori di Forza Italia come prima esperienza amministrativa come ricordava prima la coordinatrice provinciale Foschi sicuramente un'esperienza civica mi è servita per fare esperienza credo ancora nei valori civici perché i valori civici sono importanti per l'amministrazione di una città però ho fatto questa scelta sicuramente per avere qualche strumento in più e perché comunque ho fatto una scelta rispetto appunto alle mie idee e quindi sono voluto rimanere coerente con me stesso e con gli altri abbiamo intenzione di coinvolgere anche molti giovani siamo in contatto con tanti giovani e abbiamo anche l'intenzione di aprire una base se riusciamo autofidanziandoci o comunque in qualche modo organizzandoci perché ci sono comunque gli appuntamenti elettorali fra un anno e poi comunque c'è tutto il lavoro sul territorio da fare con i provvedimenti in consiglio comunale in consiglio provinciale dove abbiamo eletto comunque un consigliere quindi diciamo c'è un grande lavoro da fare dedicheremo molto organizzeremo questi convegni dove chiameremo la cittadinanza e i giornalisti per trattare appunto i temi caldi perché il dibattito sui giornali va bene tutto quanto però i temi la città va informata va coinvolta e quindi Forza Italia vuol farci appunto carico di questa cosa torna sul muro del cante di Montevecchio il poster in memoria delle vittime di femminicidio il manifesto che era stato sottratto l'11 ottobre scorso è stato nuovamente posizionato sulla facciata dell'edificio di via Palazzi per testimoniare con forza e decisione si legge in una nota del cante l'instaccabile lotta quotidiana contro la violenza e tutti coloro che vogliono far tacere questo grido di giustizia tanti sono stati i messaggi di vicinanza da parte di altre case rifugio associazioni del terzo settore e centri antiviolenza una rete sempre più viva che lotta ogni giorno per rendere ogni donna più libera il gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia torna a colorare le piazze italiane con la giornata nazionale del ciclamino l'iniziativa domenica 20 ottobre porterà volontari pazienti e caregiver a unirsi per diffondere l'informazione sulla sclerosi sistemica una malattia rara e favorirne la diagnosi precoce unica arma per scoprire la patologia anche anni prima che si manifesti a Fano li troverete dalle 8 alle ore 13 sotto i gabuccini invece a Senigallia è tutto pronto per la serata evento ideata per celebrare i 20 anni di presenza di Bicicifano nella città della spiaggia di Velluto a dar voce ai tanti ospiti sarà lo storyteller giornalista e scrittore Luca Pagliari Bicicifano compie 20 anni e noi festeggiamo i 20 anni a Senigallia di Bicicifano raccontando i volti le storie e le voci di questa città un talk show no no perché è un po' diverso ci sono tanti filmati però non è neanche un film spettacolo non direi perché ci saranno anche momenti piuttosto duri tanti ospiti questo sì e sentiremo le tante anime di questa città una serata particolare il 23 ottobre ore 21 teatro La Fenice ingresso gratuito prenotarsi comunque non sarebbe male il comune di Vallefoglia ha avviato una serie di interventi di pulizia delle caditoie delle bocche di lupo su tutto il territorio con l'obiettivo di migliorare la gestione delle acque piovane e prevenire potenziali danni causati da forti precipitazioni specialmente nel periodo autunnale il sindaco Palmiro Chielli e l'assessore ai lavori pubblici Angelo Griselli hanno annunciato che i lavori condotti da marche multiservizi sono in corso a Montecchio nella zona del centro commerciale di via Piola Torre il progetto prevede un investimento di oltre 173 mila euro proveniente dall'avanzo di amministrazione promuovere la ciclovia Pennini Calte Marche e le tipicità locali questi gli obiettivi dell'iniziativa ideata dall'Unione Montana Catria e Nerone sentiamo di più nella prossima intervista Ponto alla rovescia per la seconda edizione della ciclovia del gusto Alte Marche WeBike la rassegna in programma dal 24 al 27 ottobre come nasce questa iniziativa e in che cosa consiste? Un evento volto a valorizzare la ciclovia delle aree interne ossia una ciclovia che tocca tutti i comuni delle aree interne 7 comuni della provincia di Pesaro e 2 fuori provincia basata principalmente sul gusto quest'anno sarà al femminile quindi ci concentriamo sulla parte del Bici Woman e appunto come dicevo è rivolta a quello che è la valorizzazione dei prodotti tipici locali quindi si abbina lo sport al territorio alla promozione del territorio a quello che è la principale etichetta delle aree interne ossia il gusto un'opportunità anche per fare del buon turismo assolutamente sì la bicicletta è un mezzo fondamentale per fare turismo nelle aree interne e tutti i tipi di bicicletta dalla strada alla gravel alla mountain bike addirittura anche la fuoristrada downhill ricordiamo le date e come partecipare sì saranno la prossima settimana dal giovedì alla domenica quindi ci saranno delle ragazze che percorreranno la ciclovia e poi si fermeranno nelle varie tappe dal giovedì sera alla domenica in tutto il territorio delle alte marche quindi in tutti i comuni dell'Unione Montana oltre Piobbico Sassoferrato ed Arcevia Enogastronomia cultura e intrattenimento per grandi e bambini Pergola è pronta a calare il tris dopo il grande successo delle prime due giornate domenica 20 ottobre si terrà il terzo e ultimo appuntamento della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato grandi protagoniste della terza domenica come ha spiegato il vice sindaco e assessore al turismo l'onorevole Antonio Baldelli saranno le ostriche della Spezia un'eccellenza che incontrerà a tavola il prezioso tubero il via sarà alle 9.30 in piazza Garibaldi con auto d'epoca e moderne quindi la partenza per un giro che toccherà i borghi di Sera Sant'Ambondio Frontone e Cagli alle 10 poi è prevista l'apertura degli stand espositivi e della piazza del tartufo con un chilometro e mezzo di prelibatezze del territorio e di altre regioni mentre alle 12 in stazione arriverà il treno storico uno dei momenti clou sarà la consegna del premio Le Marche che non ti aspetti a due personaggi del campo del giornalismo e del management la settimana scorsa il riconoscimento è andato al direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi dopo l'appello dell'artista Gilberto Grilli disposto a donare al comune di Fano 300 opere per metterle in mostra questa sera vi facciamo ascoltare la risposta dell'assessore alla cultura Lucia Tarsi Assessore abbiamo potuto ammirare le 23.800 opere che l'artista Grilli conserva nella sua abitazione 300 di queste vorrebbe donarle all'amministrazione comunale purché vengano esposte nell'ala di un palazzo fanese come avete appreso questa notizia e soprattutto le chiedo se è fattibile abbiamo assolutamente apprezzato questa generosità del signor Grilli la sua collezione la sua casa museo è già nota soprattutto agli estimatori d'arte le sue parole le parole di Gilberto sono molto belle parla di bellezza è vero la bellezza non sempre è compresa e l'opera d'arte ha un valore eterno ed è necessario che non sia solo privata ma diventi anche collettiva quindi accoglieremo con molto piacere la possibilità di poterci incontrare adesso cercherò nell'immediato di poter avere un incontro con il signor Grilli se anche non sarà possibile realizzare subito il suo sogno perché uno spazio di un palazzo ancora non lo abbiamo però certamente in attesa di poter riuscire a trovare una collocazione di queste 300 opere che lui vorrebbe donare potremo sicuramente ragionare insieme della possibilità di realizzare un evento temporaneo quindi una mostra temporanea dove cittadini fanesi potranno ammirare questa meravigliosa collezione tra l'altro l'artista Annigoni è molto apprezzato e quindi ci sarà sicuramente un pubblico attento e interessato a questa proposta e vi ricordo che lunedì alle ore 19 andrà in onda la seconda puntata della stagione di primo cittadino l'ospite sarà il sindaco di Pergola Diego Sabatucci che risponderà in diretta alle vostre domande potrete intervenire telefonando allo 0721 86 14 33 o inviando un messaggio su whatsapp al 338 49 68 250 subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'SPG Tech Frame Fano Rugby termina qui il telegiornale grazie per averci seguito e buona serata